Praticità e rapidità nei rapporti con l'amministrazione regionale, anche sul fronte dei pagamenti delle prestazioni sanitarie. Il cittadino al centro dell'organizzazione amministrativa, attraverso un cambiamento organizzativo. Da oggi, 14 luglio, pago online e salto la fila agli sportelli per effettuare visite ed esami negli ospedali di Pesaro e Fano. Se si potesse pagare da casa, anziché venire a fare la fila, sarebbe contenta? Sì. Senz'altro, perché qui quando devi fare una cosa, poi non sempre, se riesci a venire da solo, devi essere accompagnato, capito? Se funziona, è positivo il mio pensiero. Basta collegarsi a un sito, ospedalimarchenord.it e si fa la procedura dal di lì. Ci proverò, ci proverò. L'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è la prima azienda sanitaria delle Marche ad usufruire del sistema Marche Payment, la piattaforma regionale che già consente i pagamenti online dei bolli auto e che presto diventerà per il cittadino un punto di accesso per effettuare i propri pagamenti regionali, sanitari e comunali. Tutte le prestazioni erogate dal San Salvatore di Pesore, dal Santa Croce di Fano, in regime istituzionale o in libera professione, prenotate attraverso il servizio CUP regionale o tramite il call center telefonico, potranno essere pagate online, evitando le file alle casse degli ospedali. Non mi aspetto che il signore di 85 anni, con tutto rispetto, abbia dimestichezza con lo strumento informatico, però tutto il resto degli utenti che hanno necessità di effettuare delle prestazioni sanitarie sottraggono una fila magari a questi utenti che non hanno la dimestichezza dello strumento informatico. Serve il codice fiscale, serve il numero di prenotazione del CUP, serve un indirizzo e email e serve una carta di credito. Banalmente si possono anche utilizzare quelle carte di credito prepagate che vengono di regola utilizzate per tutte le operazioni internet. Il pagamento, in forma a un comunicato, è sicuro. E terminate le operazioni, il sistema invia alla mail indicata una ricevuta valida a tutti gli effetti e i fini fiscali, come quella rilasciata dalle casse dell'ospedale. Per usufruire di questa metodica di pagamento sono previsti però dei costi di commissione aggiuntivi di 1,40 o 1,50 a seconda del circuito di credito. Già uso il Bancomatte per pagare quando devo pagare, però 1,40 o 1,50 mi pare un po' tantino. Grazie a tutti.